Gentili telespettatori, buona giornata. Pier Silvio Berlusconi viene interpellato sull'intitolazione a suo padre dell'aeroporto Milano Malpensa che diventa, non lo so, non so bene la denominazione se sarà Milano Malpensa Silvio Berlusconi o Malpensa Silvio Berlusconi o Milano Silvio Berlusconi o Berlusconi Silvio Malpensa, non lo so. Comunque c'è già, è intitolato a lui. E chiedono al figlio, Pier Silvio Berlusconi, che cosa ne pensa. E lui dice, non mi sono piaciuti né i tempi né i modi, noi figli non siamo stati coinvolti. Naturalmente questa notizia non la trovate sui giornali di centrodestra. Ma sui giornali di centrodestra trovate le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi che dice io lodo tutto quello che fa la Meloni e il suo governo. Un'intervista a Pier Silvio Berlusconi, i giornali di sinistra ti dicono non è piaciuta l'intitolazione dell'aeroporto, i giornali di destra ti dicono loda il governo Meloni. Quindi della stessa intervista vedete che i giornali che fiancheggiano la sinistra e fiancheggiano alla destra tirano fuori due titoli che ti fanno pensare a cose completamente opposte. Il primo titolo dei giornali di sinistra o comunque quelli trasversali è che il figlio di Berlusconi non è propriamente contento dell'intitolazione dell'aeroporto, il giornale di destra ti dice che Pier Silvio Berlusconi loda la Meloni. Pier Silvio Berlusconi loda la Meloni, sì. Pier Silvio Berlusconi non è contento dell'aeroporto, sì, a nome di suo padre, sì. Nella stessa intervista, ma i giornali fiancheggiatori delle due aree tirano fuori il titolo che conviene. Chiaro, no? Lui ha detto queste due cose, ma i giornali vi fanno credere che Pier Silvio ha solo parlato male o Pier Silvio ha solo parlato bene. Poi quelli che sono un po' più analizzano queste cose e dicono, ah, ho capito. Chiaro, no? Allora, parliamo della prima notizia, poi in un altro video parleremo anche di quello dove lui loda la Meloni. Allora, dice Pier Silvio Berlusconi, noi figli non siamo stati coinvolti e siamo stati informati praticamente a cose fatte. E poi dice Di Sala, pensasse a Milano, ogni volta che ci vado dico che è un disastro. Allora, vorrei dire questo. Perché se il governo vuole intitolare l'aeroporto a una persona scomparsa deve chiedere ai figli? Quindi, non so, se tu vuoi fare piazza Garibaldi in un paesino, devi chiedere ai discendenti di Garibaldi un parere. Eh? No, dico, chiedo per un amico. Bisogna chiedere a Pier Silvio se per lui è giusto o no fare l'aeroporto a nome di suo padre poi prende una decisione o i governi fanno quello che reputano giusto senza chiedere a parenti, nipoti, eccetera, eccetera. Quindi, che Pier Silvio dice non mi piace perché non sono stato coinvolto, amico mio, avere il cognome Berlusconi e avere ereditato un impero non vuol dire che il governo del tuo paese debba chiederti il consiglio per intitolare l'aeroporto a tuo padre, insomma. Caro amico, sei un uomo super super fortunato ad aver avuto un genitore che ti ha lasciato un impero, questo non vuol dire che tu sia al di sopra degli altri e che il governo debba chiederti un parere per intitolare l'aeroporto a tuo padre. Eh, caro Pier Silvio, insomma, riscendere a livello del pavimento e toccare terra con i piedi perché noi figli non siamo stati coinvolti, perché c'è scritto nella Costituzione che dovete essere coinvolti per un aeroporto, però chiedo per un amico io, eh, io chi sono? Sono un povero tapino che esprime la sua opinione, loro sono grandi, tutti grandi, eh? Bene. Quindi l'aeroporto Silvio Berlusconi è andato di traverso i figli e Pier Silvio lo dice chiaramente. Allora, l'obiettivo di Salvini, cioè quello che dice Pier Silvio è Salvini Sala, ce l'ha con Salvini Sala quando poi, caro amico, permette di chiamarlo caro amico Pier Silvio, guardi che Salvini Sala chi decide è la Meloni. Salvini non decide nulla. Salvini è un ministro, è capo del terzo partito del governo, ma non è che Salvini decide a chi intitolare gli aeroporti, è la Meloni che decide. Poi lui punta Salvini perché puntare la Meloni può essere sconveniente, capito? E allora se la prende con Salvini. Le persone se la prendono sempre con quelli con gli anelli più deboli, mai con il Deus, il capo del... ecco. Dice così, tutto ciò che viene intitolato in onore di mio padre fa piacere. Le polemiche però mi hanno infastidito. Noi figli non siamo stati coinvolti. E perché? Dovevano coinvolgervi. E siamo stati informati praticamente a cose fatte. Secondo me neanche dovevano informarvi. Dovevate apprenderlo dai giornali come l'ho appreso io. Perché devono informarvi? Dove sta scritto? In Costituzione? No, chiedo per un amico. E poi dice le modalità non mi sono piaciute nei tempi e nei modi. Ho capito che per intitolare un qualcosa di pubblico a una persona, questa persona deve essere scomparsa da almeno dieci anni, quindi questa intitolazione è praticamente illegale. Probabilmente qualche giudice vedrete che prenderà in mano la situazione e lo dichiarerà comunque illegale. Questo di cui abbiamo parlato perché Silvio Berlusconi è deceduto da un anno, non da dieci anni. Quindi c'è proprio una parte legale, giuridica che non va bene. Però i figli coinvolti non c'è scritto in nessuna parte, informati praticamente a cose fatte. E quindi? Qual è il problema? Ti dovevano telefonare e dirtelo prima? Boh. E poi sembra qui riferirsi proprio al leader della Lega. Poi arriva anche al sindaco di Milano. Dice penso che si rivolge a chi si rivolge a mia sorella in un certo modo, le polemiche sulle polemiche sono terribili. Il riferimento al posto in cui Sala tirava per la giacca marina dicendo lei ha vissuto sulla sua pelle quanto suo padre sia stato amato e odiato, ma non era meglio aspettare, far sì che gli italiani si distendessero, far leggere alla storia, alla vicenda di suo padre con più tranquillità. E lui dice Sala pensasse a Milano, io vivo in Liguria ma tutte le volte che ci vado dico che Milano è un disastro, traffico, delinquenza, buche. Eh sì, l'ipotesi poi lui di una discesa in politica non lo affascina proprio perché scendere in politica sarebbe un carachiri, le orme del padre non le vuole seguire, per ora è solo concentrato su MFE, la società che controlla Mediaset. Beh, ovviamente scendere in politica con dei politici del genere e una società degradata a questo livello divisa in tifoserie, mio consiglio personale caro Pier Silvio, non ci pensare proprio, stai lì, fai quello che fai l'imprenditore, goditi la vita ai miliardi, politica, con quella gente lì, con quel livello lì. Ma dai, su, arrivederci a tutti e grazie.